Una domenica memorabile, quella del primo ottobre per Schiavonea di Corigliano. Il progetto di igiene urbana più differenziata, uniti nel separare, promosso dalla Ecoros, ha raggiunto uno step importante per la rimozione di tutti i cassonetti nella popolosa frazione di Schiavonea. Nel cuore della notte è iniziato il lavoro dello staff dell'azienda Ecoros, presenti sul posto, oltre al sindaco di Corigliano Giuseppe Gioraci, gli assessori Marisa Chiurco e Benito Abicella. Il responsabile dei servizi igiene urbana di Ecoros, Simone Turco, unitamente rappresentanti della Polizia Municipale. Siamo adesso sull'uncomare di Schiavonea, una rivoluzione che si completa stamattina. Abbiamo iniziato il primo odio dello scalo, lo scalo ha risposto benissimo, ci auguriamo che anche Schiavonea possa rispondere benissimo. Schiavonea ha tutte le qualità per emergere veramente. Vedete stamattina che è bello questo lungomare, un mare splendido. Quindi se noi cittadini qui di Schiavonea riusciamo a comprendere le ragioni della differenziata. La ragione della differenziata è perché avremo un ambiente pulito, limpido e poi chiaramente anche avremo costi inferiori rispetto a quelli attuali. Quindi l'appello che io lancio alla mia Schiavonea, io abito qui a Schiavonea, ormai da anni, ecco che noi abbiamo, ripeto, tutte le possibilità per poter veramente fare di Schiavonea un fiorello cielo nella nostra città di Corigliano. Quest'anno abbiamo avuto un boom di turismo, tantissima gente, c'è da migliorare ancora tante cose, c'è da fare ancora tanto, tanto lavoro, ma io dico che quello che stiamo facendo stamattina per completare questa rivoluzione è un ulteriore passo avanti, e io penso l'ultimo passo avanti proprio per dare all'ambiente quella qualità che merita e merita anche Schiavonea, di essere veramente, ripeto, un fiorello cielo nella nostra città di Corigliano. Quindi uno sforzo comune tutti quanti insieme e poi fare la differenziata a un edificio è facile. Non ci dobbiamo regare più dinanzi ai cassonetti per buttare la spazzatura, basta lasciarla fuori dalla nostra porta e poi non vediamo più cassonetti. Oltre alla consegna dei kit e delle attrezzature per ogni singola utenza domestica e commerciale, l'Ecoros ha organizzato incontri con la comunità in chiesa, nei vicoli, dovunque. Azienda e amministrazione comunale mirano a raggiungere il 65% di raccolta differenziata già a partire dal primo anno. Un ottimo lavoro fatto da tutto lo staff della Ecoros, sono stati consegnati i kit casa per casa, le nostre informatrici ambientali hanno appunto spiegato come, cosa e soprattutto perché fare la raccolta differenziata consegnando tutto il materiale. Poi è stata fatta anche una grande attività di informazione davanti agli uffici pubblici, davanti ai supermercati, quindi c'è stata una grande attività di informazione da parte di tutto lo staff. In questo momento noi siamo pronti per svolgere un servizio efficiente ed efficace da domani in poi e abbiamo necessità che appunto i cittadini facciano la loro parte differenziando correttamente i rifiuti in casa. Noi faremo la nostra parte per quanto riguarda appunto un servizio efficiente ed efficace e puntuale e ci aspettiamo che anche l'amministrazione comunale attui quell'attività di monitoraggio e controllo utile affinché chi non rispetti le regole eventualmente venga anche sanzionato. Solo così riusciremo tutti insieme a prenderci delle grandi soddisfazioni. Si ribadiscono infine le necessarie sinergie tra i vari soggetti in campo affinché si raggiungano obiettivi e risultati, tra i quali l'idea di una città pulita e la riduzione dei tributi. Per far questo occorre un'azione convergente in concorso tra l'amministrazione comunale, ufficio ambiente, Regione Calabria, regolarità dei conferimenti in discarica, polizia municipale e senso civico nei cittadini.